E' pronto le vode ...ogli anni ci sono un mesele, se un signore va, o se no saluta chi resta. Prima di dire avevamo i peri rossi, ora sono tutti i giorni, i primi vecchi. La tamburriata, come altri generi musicali, popolari, appartengono appunto alle radici culturali di un paese o di una persona, quindi anche avvicinarsi alla cultura del proprio paese. è meglio andare a morire a giocare a guerra andiamo